ciao a tutti oggi prepariamo il vogue fatto in casa ricetta che ho già postato nove anni fa che vado a rifare per due ragioni anzi 31 perché l'audio e la qualità video era erano veramente pessime due perché se vi lamentate che adesso i miei video sono molto piatti non brio non emozioni non sorrido mai se vedete questo video di nove anni fa vi strappate i capelli ma il motivo principale è perché insieme all'uomo di casa abbiamo deciso di fare un libro sui liquori quindi se siete interessati fatemelo sapere sotto nei commenti così ci regoliamo anche se farlo o no utilizzando sempre il calcolo della gradazione alcolica dell'uomo di casa sono andato a fare delle varianti quindi adesso vi vado a leggere gli ingredienti perché con questa ricetta ci avviciniamo ancora di più al bo quello originale anche la gradazione alcolica finale sarà intorno al 19 per cento quello originale sul 18 quindi un po più ricco perché noi utilizziamo più uova comunque adesso vi leggo gli ingredienti ci serviranno 320 g di zucchero 110 g di alcol gradazione alcolica 96 per cento 96 gradi vino marsala comprato lo buono mi raccomando 250 grammi latte intero 200 ml quattro tuorli e un grammo di vanillina anche la vanillina comprata la buona se non riuscite a trovarla buona stecca di vaniglia come procediamo prima cosa mettiamo metà dello zucchero in un pentolino con il latte portiamo ad ebollizione perché dobbiamo far sciogliere lo zucchero e creare il nostro sciroppo una volta che il nostro zucchero si è sciolto lo mettiamo da parte aspettiamo che il nostro sciroppo raggiunga la temperatura ambiente nel frattempo l'altra metà di zucchero che è rimasto la vanillina e i quattro tuorli li mettiamo dentro un altro contenitore e andiamo a mescolare per bene il tutto mi raccomando non mi buttate gli albumi che potete utilizzare per la torta di albumi provate la ricetta questo il canale aggiungiamo il marsala sciolto per bene lo zucchero aggiungiamo l'alcol lo sciroppo e poi andiamo ad imbottigliare non ok 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 con questa ricetta abbiamo ottenuto circa un litro io ho fatto una bottiglia grande per la degustazione per quando gli amici vengono a trovarmi e due bottigliette piccoline così da fare qualche regalino adesso posizioniamo il tutto in un luogo buio e dobbiamo aspettare due settimane sicuramente io non resisto due settimane chi segue il canale lo sa e poi per la degustazione a me piace bello fresco quindi andrò poi a posizionarlo in frigo o anche nel congelatore vedete voi come vi aggrada se fresco bello freddo ci ripetiamo per la degustazione il profumo è già uno spettacolo però prima di andare a fare l'illustrazione faccio una specie d'appello perché questa ricetta che ho già fatto ben nove anni fa l'ho rifatta perché insieme all'uomo di casa abbiamo scritto un libro di liquori fatti in casa i miei più i suoi e doveva essere un video lancio per questo libro naturalmente le case editrici non ci hanno proprio guardato neanche di striscio quindi questo romanticismo da cuore di cioccolato non ha funzionato molto se qualcuno di voi lavora per qualche casa editrice e ci vuole contattare per dare un'occhiata a questo libro se vale la pena pubblicarlo o no ci può scrivere qua nella mia mail cuore di cioccolato punto e ti chiocciola gmail.com bene andiamo a fare la degustazione spettacolo che ve lo dico a fare leggermente più forte rispetto a quello che trovate in commercio bene come al solito vi incoraggio iscrivetevi al canale lasciate un mi piace guardare gli altri video per qualsiasi richiesta qualsiasi consiglio sempre sotto nei commenti ciao ciao